Questo è soltanto un punto che noi abbiamo aperto, anche se stilisticamente fatta da un architetto, l'architetto Cozzovino, che ha fatto un gerlino. Ma noi ci auguriamo e speriamo che Gaeta possa dare alla Banca Popolare di Gaeta, che è la Cassinata, quello che noi ci auguriamo di avere. Appena raggiungeremo certi traguardi, sicuramente potremo dotare Gaeta di un'agenzia bella tante quante le nostre che abbiamo nella provincia di Frosilune e in quelli di Formia. Non so se lei ha l'occasione di vedere le nostre agenzie. Noi siamo orgogliosi di essere arrivati a Gaeta. Gaeta è una nostra città, è una Gaeta che io, oggi non più giovane, mi sento anche Gaetano, perché vedete, oltre ad essere cittadino di Cassino, io ho anche casa a Gaeta, non da oggi, ma da tanti, tanti anni. Io praticavo Gaeta, quando ero un ragazzo, e quindi conosco Gaeta. Gaeta è una delle più belle città del terreno, che noi ci auguriamo così come noi vorremmo dare qualcosa a Gaeta sotto aspetto economico-finanziario, dove possiamo creare ricchezza e valore nelle zone in cui noi apriamo. Gaeta è il posto marinale, dove abbiamo uno splendido mare e uno splendido golfo. Credo che i golfi quanto belli come quello di Gaeta ce ne sono poco. Noi vorremmo realizzare qualcosa di bello a Gaeta, perché Gaeta merita, è una città che noi amiamo e che vorremmo dare a voi Gaetani, qualcosa che possa portare ricchezza e creare valori nella zona in cui noi operiamo. Noi siamo una piccola, grande banca, è una popolare nel vero senso della povera. Siamo vicini alle famiglie, siamo vicini ai pensionati, siamo vicini alle piccole imprese, siamo vicini all'operabilità economica-finanziaria della zona. Che cosa ci aspettiamo? Che Gaeta possa dare al nostro istituto qualcosa per far crescere. E se cresce questo piccolo punto vendita, noi cercheremo di trovare Gaeta di una grande e bella banca, come Gaeta merita sotto tutti gli aspetti. Adesso sta a voi Gaeta, sta a voi televisioni locali, sta a voi giornali locali, di modernizzare con la visibilità che noi vogliamo dare a un piccolo punto vendita di Gaeta, ma che è stato realizzato da un architetto, che credo che ha dato in questa zona molto o molto gusto. Noi ci auguriamo che questo fabbricato, così come è iniziato, possa essere ristrutturato e abbellito, da rendere questo posto bello come lo è, come non è stato e come noi vorremmo che fosse. Grazie per l'intervista e io auguro ai Gaeta e a tutti quanti voi che possiate potervi godere questa piccola agenzia che noi cercheremo di offrire già da lunedì con il nostro funzionario tutte le informazioni che i Gaetani volessero avereci per la vostra operatività. Grazie. Questo è un contesto bellissimo di Gaeta ed è importante il fatto che la banca abbia deciso di venire ad operare qui, in questo contesto, a Gaeta ed in questo contesto. Si accede in questa area self con la tessera di una qualsiasi banca o anche con una carta con microchip, quindi anche la tessera sanitaria e poi si può beneficiare, ovviamente inserendo la propria carta, i propri codici, il proprio codice segreto, si può beneficiare dei servizi dell'ATM. Questo è uno sportello Bancomat intelligente, automatizzato di ultima generazione che permette di effettuare dei versamenti, dei prelevamenti e offre un'altra serie di servizi direttamente in forma automatizzata. Tra le altre cose, a breve, nel tempo, ci sarà anche la possibilità di avere una consulenza anche in via web, sostanzialmente, direttamente con la direzione generale di Cassino. La nostra banca è una banca che offre servizi assolutamente all'avanguardia della clientela e sono servizi per tutti, è una banca a 360 gradi. Tra le altre cose, da utente, finalmente Gaeta Vecchia ha uno sportello Bancomat. Questo è il primo passo. Noi siamo qui per i Gaetani, siamo al servizio dei Gaetani. Ci auguriamo che i Gaetani abbiano il piacere di venire a conoscerci.